C'è sempre l'Arechi quando si parla di Salernitana, oggi in occasione della presentazione della maglia celebrativa non sia allo stadio Arechi ma nella splendida cornice del Castello Arechi a fare gli onori di casa addirittura a Marco Mezzaroma che ha rifiutato di parlare di prospettive sportive, di programmi di futuro riservando e declinando le domande dei cronisti riferiti alla prossima stagione agonistica ad un prossimo appuntamento ma una cosa l'ha detta, vogliamo andare in Serie A e ha parlato anche di valutazioni che si stanno facendo per quanto riguarda eventuali cambi al management della Salernitana poi il resto è stato della storia, è stata appartenenza, è stata la maglia celebrativa, il nuovo sponsor tecnico, il triangolare con Bari e Regine il 31 luglio prossimo dedicato alla memoria di Carmine Rinaldi, il siberiano, la Hall of Fame che prevederà delle targhe allo stadio Arechi la prima dedicata al compianto capitano Agostino Di Bertolomei ed ancora i quattro ragazzi periti nel ruogo del treno Piacenza-Salerno a cui saranno dedicati tre campi di calcio della nuova struttura del Meri Rosi dove oramai la Salernitana ha messo casa e la sala stampa dedicata a Simone Vitale, questo e tant'altro in una lunga, lunghissima conferenza stampa che il copatron Marco Mezzaroma ha tenuto appunto al Castello Arechi una conferenza durata un'ora e più e a cui poi si è concesso alle domande dei giornalisti ma solo ed esclusivamente riferite al centenario o almeno si è provato a stanare la Salernitana anche e soprattutto sul piano sportivo, ci si è riusciti soltanto in parte per il prossimo futuro invece si capirà quale sarà il futuro della Salernitana sul piano tecnico l'unica cosa Mezzaroma ha risposto e ha detto vogliamo andare in Serie A, chi vi va vedrà